Grazie a tutti 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 Si è morto, si è morto. Ah! Ye! Ayo! Ah! Eh! Eh! Ah! Eh! Eh! Anu! Mmm! Ah! Eh! Mmm! Eh! Ah! Oh! Hey! Ah! Yay! 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 ma come si vede e non 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 ma ma non No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. oi c'è questo cavallo? C'è il suo tempo? Sono partito in grado? Non lo non lo so. Ora non lo non lo so! La prima parte che all'estriva venire. L'estrimento, non è così, non lo so. Non lo so. Noi siamo nuovi. come and say, what question you do? non mi sento che ho disegno come and say, I'm crushing on you the next thing you're saying is, I question you too who does that? it's not nice come and say Yoda, come and say I'm sure you're here come and say I love you, I love you, you're so cute we had the conversation, we're in Barcelona so what are you talking about? but come and say, I love you come and say I want you to buy you come and say I love you you're so cute o scegliere le questione no, non sono le switch non sono le switch mi una cosa del genere mi piacciono, mi piacciono, sai mi piacciono, sai che rotto me si non vuoi, la cosa che mi erano si è giusto mi piacciono che mi piace ma cosa che mi ha piacciono la cosa che sono in tach mi piacciono, mi piacciono la cosa che mi piacciono Non ti che fanno nunca, non ti meni, non ti saprei. Ok, non ti fanno mai. Chissà, non ti fanno mai. Non mi sono mai come, quando non ti fanno mai. Non ti fanno mai. Non ti fanno mai che io. Non mi fanno mai. Non ti fanno mai. Cosa quasi. Sto facendo da tui. Ti fanno qui è stesso, che stessi said svegli tui. Non ti fanno più fare così automati. Non, non ci fanno più. Noi non c'è, non mi fanno mai, non si fanno mai. Cosa cosa nella te dice Lei che vuole non mi ha detto conviveremo a noi? Sì, perché non mi ha pochissato di questo e di questo. Nessun carro che però non ci si vede a lei. « Si, mi ha pochissato? Noi, se vede a lei, non mi ha piuva. Non si vede a lei. Va, per tutti i 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 i, i o di i 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 e i 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 i' I i! Non, 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 non. Il suo che quel tipo di potere al bambinco sulla agua. Inoltre foreign e che non è una portazione. Perchè sei che... Non, 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 non. Tornerò La mia famiglia in F��ville. I'm a 14-14. Tres anni. Tutti no, non. Uggi tornare la conversazione. Tu hai fatto? Tu non ti aspetta, non ti aspetta. Tu ti aspetta. Mentre tu ti aspetta. Tu sei tu ti aspetta. Tu sei un soldato. Tu non ti aspetta là c'est non ti aspetta. Tu ti aspetta. No, tu sai che si è fatta e non ti aspetta. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non si può essere ok. Ehm... Se ci sono? Mi chiede a fare una cosa. Ok, hai una mince. Si, hai una mince. Oh, ok. Non ci sono un po' di acqua. Se ci sono? Ci sono un po' di acqua. Ci sono un po' di acqua. Ok. Che cosa do' I offer? Mmm... Devo fare un vino? Un vino? È bene. No, io voglio Belis. Oh, Belis. No, io voglio. Un vino? No. All right. Ibidu. Ah, o che? Ah, tu hai detto che io parla con i buoni? È bene. È bene. È bene. È bene. Mi è mia mia amma, Ibidu, 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 è il mio nome di i buoni si trascinano. Allora? Eh bene. È bene. Ah, è bene. Mi famiglia, tu conosci. ok now that i've finally come over to your place you might disturb me when are you coming when am i seeing you now you're here by you i love you i love you oh 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 questions why are you not sleeping me or really by me mo tb morito awake or that's some pay yeshe ramee understand i'm sorry actually musaiwa draft document gallery microsoft word me mo tb morito oh 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. Grazie a tutti. come se io faccio il mio meglio e prendere l'amore il nostro compagno il nostro quinto è sicuramente il nostro compagno quindi io faccio il mio meglio io faccio il compagno come se come si come si come si come si come si Non, 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 non. è molto movimento Perché le dobbiamo 하고 in seguito? Di 400 anni? Non mi permette di capire il mio lavoro con la nazione di grazia. Grazia è soffrono. Ora io, 있다고? Ma, non ci sono grazia. Non ti spide qui? Non ti spide. Ti prego. Ti prego. Non ti farò che sa la nazione di grazia. E' chiaro che sia la nazione della nazione di grazia, non ti farò molto male, non la nazione di grazia. E come si sembra di fare una persona di una persona di una persona. Sì, nella mia persona di lavoro. È tutto ogni volta, per tutti i stazioni. Non ci sono anche le persone. Non ci sono persone che non sono le persone che stanno rinamente. Sì! Mi hai metto una volta per me chstanciampa. Non ci sono. Ah, chiede chiede. Go out. Anko, te devi e lo taglioso. Che li è in kotè birè. Ma fai, che bo. Che dondo. Bocconi che si. Yeah. Mi da nidia kukbe. Eko ma fumi ne bi 2 mw. Sisi. Oshu meji. Yeah. Anko. Fa di ming tay, Eba mi filet show moto. Ma di no. Ewa le bi e ronaka. Ewa ni. Ero, ewa ni. Eba mi bomikin fika. Eba mi so lepo ni. Eba mi manti mounse. P Jaen abura. Sian bay spi wo mwa face, Ma di kart masses. Ed mamma. Moni mò fè sei untie milimo mò ferranää áti phoni dog- pess. uw! Doub müme jid nikkeig pet. Siwhani mò li mò fè rà%. Sego sei untie milionari abbiamo fatto che sia il protesto mio sindaco, 안녕하세요, abbiamo dimensi... Biuseppe, 7.000.000 dice una poi non dalla media... Vediamo le mom pere di mia Mi quando ha una già domani? La Bia? Non, no, non ci vuoi? No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ebedo, Ok What are you trying to say? Look E'ni to fè fangialo unje To so kun sa jalo To wadbo unje soko Ba ulu si fè kajajé on Ibi du ma fi misi nu o kunkun Ba mi tamo le singkoto ungu in ojo ati so Emo opino unka o Mi opino? Sari So ko Ba mi tamo le singkoto ungo Emi du Ibi du Iona fè mabân wa Paweli obo jau ura Ibi du I woak every day O ju ju mua jermi ni mufi şi sè No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I need you guys, I need you more than ever. Perché se ti poteva il Vangelo e lui sono vissata, e ci sono i tuoi dure. Come, 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 come. non ero se non ci sono io non ci sono mi non ci sono io non ci sono perché ma non ci sono facendo ma ma non ci sono non ci sono cosa e costruzzi la supermercata non è un'ottima ma non ci sono perché le supermercati non gli altri mi non non si non, non... è che batt visa per le case No, non, non ho fatto non ho messo come st Business School in Italia Non drought, non sai è veramente benissimo ne. Mi ha pare qui, tu hai potuto Il PD è davvero finito Sون vino vino ? Finito ha stylistvole Sì, alo! Non, era이에요! Questo che perfetto è diventa Sì, in the name of Jesus, 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok, no, no. Hello? Oh, no. Oh, no, no. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non ma già in un ora ma abba mi shisha o no openi e ma ki l'ho po' in un ma sta ah e ok manu e la luoma o no a te la un mò sexy tuua a mò to 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 a kertaribai a qa l'arra one o tô o chit no uimi fin delfone ma fobob instagram ma vava po sitansi a mò toy gato le toe follo ye a mò toy a mò toy sexy pa li которое o ti uan koton bull dada ye a mò toy out o bị e a l'ho mad mi no wa sexy o pi i mò quay uko ilè bè gato ton eh Danny ah I don't know why I don't dress like this Non, non, non c'è un dettaglio. Non, non, non c'est la Finsian. Ma ma la mia riduzione è la sua? Sì non, non. C'est la sua? Si la sua, si la tua vita divina, non? Non, non. Non, non, non. Non c'est la sua. Ponte domani, C finishyù è piccolato whole? Passi de schermo questa parte, non ho churi l'ascendenza-di? Tu beh no si chui amicino? devo dire questa è il mio pequeno mente che schermo del ahishata manchico di questo pacacità frase qua si sta sotto? Inche se si pero a secondo che some confine che all'implaccio che asiponè Forma una piccola contenta Lascia darvi salire tutti! è ineggiata seconda non ciao ragazzi non No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.